Ok, intanto stiamo vedendo il secondo turno di perprevia di Carolina Petrelli e Emily Stellato contro due ragazzi spagnole, sono purtroppo sotto 4 a 1 15 pari, non hanno cominciato bene ma speriamo che si riprendano 30 a 15 5 5 6 6 6 7 8 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 18 20 19 20 21 20 22 21 22 22 partita ancora recuperabile 11-0 Queste sono due giocatrici forti perchè il Pasquale comunque è intorno ai 60-70 mi sembra un'esplosione 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 Grazie. Bellissima la risposta di Emily. Allora, purtroppo non c'è un tabellone, per cui non sono sicuro del carteggio, neanche perché non abbiamo subito questa parte dall'inizio, ma penso che siano 4-3. Grazie. Ok, entrano in campo adesso Emily Carolina. Ciao. Grazie. 15 pari. Sempre in battuta la Petrelli. Ok. Non si ferma l'aria. Benissimo, la vole di Emily sulla sinistra, del 30-15. 30-15. E' lunga la bandeja della Petrelli. 30 pari. 30 pari. Rovescio a due mani della Garcia. 4 pari. 4 pari. 3 pari. Rovescio a due mani della felicitazione. E chiudono il set delle spagnole, ci rivediamo più tardi per la partita della Giulia Sussarello e Roberta Vinci.